L'imponente lavoro di analisi eseguito dall'Istituto Zooprofilattico di Terramon rappresenta per la nostra regione anche un record nazionale per il numero di tamponi positivi al Covid sequenziati alla ricerca delle varianti. Un dato imponente visto che nell'ultimo mese in Abruzzo è stato analizzato il 21,75% dei campioni a fronte di una media nazionale dell'8,7% e oltre il 90% di questi è stato sequenziato proprio dall'Istituto Terramano, che ha analizzato finora 630.000 tamponi. Come tutti sanno ormai in regione l'Istituto non è stato solo impegnato nella diagnostica molecolare di Covid-19 dai tamponi ma soprattutto per questa imponente opera di sequenziamento dai campioni positivi. In questa maniera infatti siamo stati in grado di identificare in maniera molto rapida alcune delle varianti che si sono affacciate nel nostro territorio nazionale e anche nella nostra regione in maniera molto tempestiva ed è soprattutto l'attività di sequenziamento e di analisi genomica un'attività fondamentale per tracciare la diffusione delle varianti e per mettere appunto una importante connotazione epidemiologica alla pandemia insomma, perché è una caratteristica importante del nostro istituto quella di sequenziare i genomi di virus e batteri e soprattutto di interpretare da punto di vista informatico, bioinformatico e genomico i dati ottenuti. Un lavoro di analisi genomica fondamentale per mappare in tempo reale le varianti e intercettare le nuove mutazioni del virus. In questo momento è impegnato non solo nel sequenziare i tamponi abruzzesi, diciamo così, ma soprattutto è impegnato anche a sequenziare tamponi positivi provenienti da altre regioni, per esempio da altri istituti con i quali facciamo parte di questo network all'interno del sistema sanitario nazionale, ma soprattutto, dato che il nostro istituto collabora in maniera molto spinta con molti paesi al di fuori dell'Unione Europea, soprattutto con il continente africano, sequenziamo tamponi positivi provenienti da alcuni paesi africani come ad esempio la Namibia, la Tunisia, la Libia, proprio perché è importante dare spazio, soprattutto dare voce ad alcuni paesi che fino ad oggi sono stati, diciamo, poco al centro dell'attenzione dal punto di vista delle sequenze. La situazione in Africa in questo momento è, non voglio dire quasi sconosciuta, ma siamo lì, quindi è importante scoprire, è importante identificare ulteriori varianti che possono poi affacciarsi nel nostro territorio, quindi, ma non è solo questo, una caratteristica nostra importante è quella di formare ricercatori provenienti da altri paesi, in maniera tale da costruire solide collaborazioni per altri settori all'interno della sanità pubblica, della sanità animale, per i prossimi anni. Quindi formare ricercatori, dargli il nostro know-how, quindi insegnare loro come si sequenzia, come si interpretano i dati, per poter costruire collaborazioni importanti per il futuro. Grazie.